Un cordiale saluto, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione, scusate se intanto guardo il touchscreen non in camera, ma ho dovuto fare una corsa dell'ultimo minuto perché questa mattina ci sono delle cose interessanti, anche dei dati importanti che tra poco vedremo nel corso del commento alla stampa del giorno, andiamo con ordine, oggi è San Pio da Pietralcina, quindi un santo al quale milioni di persone sparse in tutto il mondo si raccomandano, chiedono intercessione, un santo amato da tutti, San Pio da Pietralcina, il sole sortole 6.56, tramonterà le 19.05, adesso diamo uno sguardo anche al tempo. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, io sono ancora sui giornali ma arriva anche il tempo, lo vediamo subito, eccolo qua, il tempo con il sito della protezione civile delle Marche, per quanto riguarda la giornata di oggi, vedete c'è il sole con temperature senza variazione di rilievo, per la giornata di domani è lo stesso giornata soleggiata, così come per la giornata di sabato, possibile peggioramento nella serata di domenica e nella prima parte della prossima settimana. Allora, la fotonotizia del Carlino di Pesaro, questa è l'apertura di oggi, ambera e colpevole, parliamo dell'omicidio di Ismaele Lulli, chiesti sei anni e otto mesi per concorso anomalo. Centinaia di firme invece per Piada Marina, il chiosco che si trova nella zona porto del porto di Pesaro, condannato alla chiusura, questo chiosco che evidentemente è invece molto apprezzato dai pesaresi, visto che sono state raccolte un migliaio di firme, in tanti si schierano qui nella battaglia per difenderlo. Travolta invece dal SUV, da una macchina impazzita, un SUV impazzito, lacrime per Tatiana, una morte inaccettabile, la tragedia di Moena, siamo in Trentino, in montagna, dove questa coppia di Tavuglia era in vacanza, fuori pericolo invece il marito, per lei non c'è stato nulla da fare. Sempre dalla prima pagina del resto del Carlino, basket Coppa Italia febbraio, tornano in città, quindi a Pesaro le Final Eight, furono l'amiccia del contagio e ricorda infatti Maurizio Gennari in questo articolo che al richiamo in prima pagina, i brutti ricordi e la beffa sportiva, quindi la Coppa e l'incubo del 2020. Poi a giudizio per maltrattamenti invece fidanzato egiziano, il padre di lei scatena l'inferno e poi ancora in piazza Redi, sempre a Pesaro, un baby bullo che chiama la polizia, c'è una rapina, dice, ma in realtà non era vero nulla, questa telefonata l'aveva fatta semplicemente per riprendere con il telefonino l'arrivo della polizia e quindi tutta la sceneggiata. La tratta riapre invece Pergola-Fabriano, la tratta del treno, domenica si sale a bordo, dunque riapre questa tratta, chiusa ormai da tantissimo tempo, soprattutto per scopi turistici. E poi a Fermignano, 70 anni fa, lo scoppio dimenticato, il disastro del 1951 esplose la Casa del Popolo. Allora, andiamo a vedere invece adesso la pagina del Corriere Adriatico. Sì, questo lo vediamo dopo. Ricca, allora invece volevo far vedere la prima pagina del Corriere Adriatico, ma evidentemente questa mattina si è dovuto fare tante cose, tra cui anche le grafiche, che tra poco vi farò vedere, ma evidentemente da qualche parte è finita. La prima pagina del Corriere Adriatico, però la prima pagina del Corriere Adriatico di Pesero in realtà a mio avviso avrebbe dovuto aprire con una notizia, ma aperto invece con una notizia che riguarda i ricoveri dei pazienti ricoverati nelle nostre strutture marchigiane, ma apre con il San Benedetto, l'ex ospedale psichiatrico di Pesero. Va bene, andiamo avanti. Sulle altre pagine, poi apriamo quella della pandemia. Andiamo sulla pagina di Urbino. Urbino del Corriere Adriatico, per Ambera, chiesti sei anni e otto mesi di carcere. La ragazza dice al giudice non potevo sapere. L'accusa avverte sull'SMS trappola inviato a Ismaele. La mamma di Ismaele dopo l'udienza però si sente male. Il processo con rito abbreviato che vede dunque imputata Ambera Saligi, ex fidanzata di Igli Meta, che è condannato all'ergastolo con l'amico Mario Mema per omicidio di Ismaele Lulli, ucciso nel luglio 2015 per gelosia, ha avuto ieri una giornata campale di febbrile attività nel Tribunale di Urbino. Due ore e mezzo ieri mattina di requisitoria del PM Irene Lilliu che ha ripercorso tutte le varie fasi della vicenda, di questo processo e del processo penale chiedendo per Ambera questa ragazza che oggi ha 24 anni, Macedone, residente a Pesero, la condanna a sei anni e otto mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. Eugenio Gulini racconta e ricostruisce quello che è accaduto. Poi la pagina di Fano al Vallato, la nuova piazzetta dialoga con la casa, c'è il comune, riqualifica il quartiere relazionandosi con la parrocchia, ecco tutte le opere per la prima volta dopo molti anni il quartiere del Vallato di Fano sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che incentiveranno una maggiore socialità. La curiosità per quanto sta avvenendo è stata alimentata in questi giorni non senza preoccupazioni da diversi residenti alla vista di ingenti depositi di terra che vengono fatti al confine tra il quartiere e l'aeroporto, qualcuno ha temuto che lì nascessero a discarica, in realtà no, così ha chiarito l'assessore all'urbanistica e vice sindaco Cristian Fanesi, si tratta invece di movimenti che servono per costituire un elemento divisorio tra l'abitato e la strada unendo via Papiria via Colonna attraverso il campo d'aviazione e questa terra proviene dagli scavi effettuati dall'ASET per la realizzazione dell'acquedotto con un investimento di 1.650.000 euro. Poi ho l'Africa nel cuore all'ambasciatore Attanasio, il premio alla memoria sarà ritirato dalla vedova al Clu di una settimana di eventi, sempre sui giornali come dicevamo la pergola Fabriano, il treno che torna dunque a fischiare, domenica riprende questo viaggio della storica tratta ribattezzata Sub-Appenninica Italica, un tour con passeggeri tra le bellezze del territorio, l'assessore Baldelli dice un segno concreto della visione che la Regione Marche ha delle infrastrutture, mentre sotto si parla della ciclabile, Fano Urbino a due corsie verso l'incarico ad un professionista. La cronaca ancora da Fano litigate e minacce l'unione coniugale finisce con l'accusa di maltrattamento, rinviato a giudizio un 59enne accusato di aver aggredito verbalmente e fisicamente moglie e figli, mentre in scooter tampona un'auto ferito un ragazzino di 15 anni. Poi per la futura centrale di Terna, nuovo confronto con i cittadini, i cittadini sono quelli di Cartoceto, convocata una riunione per questo Adriatic Link, il sindaco Ricorossi dice faremo tutto con la massima trasparenza. E ancora da Cagli i tre ambulatori restano aperti grazie ad un pensionato, il consigliere regionale Rossi in servizio a un cardiologo a Cagli, Urbagna e anche a Fossombrone. Ancora dai giornali, questa volta la pagina che riguarda il resto del Carlino sulla raccolta dei tartufi. Si parte, si teme però che in qualche modo ce ne siano pochi. Come andrà da domenica? C'è stata poca pioggia, la situazione non promette bene e in Toscana già si lamentano della quantità. Dunque questa è un'intervista, qui vedete Pino Crescentini, mentre sotto un sacerdote, Don Antonio che è un grande ricercatore di tartufi. Non solo le condizioni del clima hanno ridotto la presenza di questi tartufi, il guaio è anche la ricerca prima del tempo necessario. Qualcuno che ha fatto il furbetto e che si è messo a cercarli prima del tempo. A pagina 12 invece del sabaterresto del Carlino, abusi, shock su un disabile, un anziano è stato indagato, accusato di atti sessuali nei confronti di un 21enne con problemi psichici, lo avrebbe minacciato, se parli ammazzo tua madre. La vittima, appunto questo 21enne, affetto da problemi psichici, ieri mattina davanti al GUP si è svolto l'incidente probatorio. E allora andiamo a vedere quest'altra notizia che arriva da Piazza Redi, da Pesaro. Aiuto, c'è una rapina al supermercato ma voleva filmare le sirene della polizia, un ragazzino che finge un colpo vicino a Piazza Redi per vedere l'effetto che fa, come diceva la vecchia canzone. Rintracciato, però non è imputabile e quindi è così. Pesaro riabbraccia le Final Eight, invece c'è l'incubo del 2020 da cancellare, un anno e mezzo fa questa partita, questo evento sportivo più che altro, fu l'innesco del contagio, ce lo ricordiamo benissimo, sembra una vita fa. Ora tornano nell'era Green Pass, Ricci assicura sarà tutto in sicurezza. Ora, questa è la prima parte della nostra rassegna, del nostro commento alla stampa, come avete visto insomma le notizie sono queste. Ma adesso apriamo quelle che riguardano invece il Covid, il coronavirus, la pandemia. Perché? Perché ci sono alcune notizie. La prima, se vogliamo partire un po' più leggeri, è questa e la prendiamo dal resto del Carlino nazionale. La notizia, questa fotonotizia se vogliamo, titola così Basta TV, con un punto interrogativo. Speriamo che questo punto interrogativo venga cancellato e che dunque resti invece una conferma. In che senso Basta TV? Non è certamente per loro scelta, ma perché il governo accoglie un ordine del giorno per limitare le dichiarazioni dei virologi. Vadano in trasmissione solo se autorizzati, però loro protestano. Ora, questo in realtà accade anche nel nostro piccolo, cioè se noi, quando noi come redazione per esempio dobbiamo intervistare i virologi delle marche piuttosto che i responsabili dell'area vasta per sapere come sta andando la situazione eccetera, noi dobbiamo chiedere ogni volta l'autorizzazione. Non basta chiamare e contrattare la persona che vogliamo intervistare. Dobbiamo fare tutta una serie di procedure e quindi se chiediamo oggi un'intervista probabilmente ci viene rilasciata fra qualche giorno perché è il tempo necessario per avere l'autorizzazione. Cioè questi medici devono essere autorizzati. Ora non si capisce perché in questi due anni di pandemia questi signori abbiano potuto fare e dire tutto quello che volevano, il contrario di tutto, senza un minimo di autorizzazioni. Ora protestano ma ormai i danni li hanno fatti in abbondanza, ma molti danni hanno fatto questi signori qua. E quindi adesso io spero che questo ordine del giorno venga approvato, il governo lo accoglie, qualcuno parlerà di bavaglio ovviamente, di bavaglio di Stato eccetera eccetera. Però anzi andiamo a vedere, grazie Rick per questa, stamattina è tutto in corso, poi vedrete anche il motivo. Allora andiamo, mi fai vedere per favore, ecco la prima pagina della verità. Infatti la prima pagina della verità dice questo, arriva il bavaglio, adesso però non riesco a vederlo perché devo avvicinarmi al monitor, allora non avendolo nel touchscreen, dunque arriva il bavaglio di Stato, ordine del giorno impegna il governo che approva, quindi approvato grazie, ad attivarsi perché in tv, alla radio e sui giornali parlino solo medici autorizzati dalla struttura da cui dipendono, pubbliche o private. In pratica potere di censura a speranza. Si arrabbia pure Galli che definisce questa, questa, quest'ordine del giorno grottesco, una situazione grottesca. Ora, verrebbe da dire, meno male se a parlare ci fossero altri, altri. Poi è chiaro che se sono autorizzati dal governo diranno le cose del governo, quindi non è che cambierà di molto. Il meno male sarebbe solo per non vederli tutte le volte in televisione, magari cambiamo facce, perché tanto comunque sia, ormai la frettata è fatta. Ma al di là di questo, andiamo a vedere invece le notizie, e questa era l'apertura. Adesso qui Martina Marinangeli ha fatto un bel lavoro e il Corriere ha fatto bene a scrivere questa, a dedicare questa pagina, anche se con molta calma, senza esagerare troppo. Allora, andiamo a vedere il titolo. Rianimazione, tre pazienti su 21 hanno ricevuto la doppia dose. In area medica su 37 degenti, solo 7 sono stati immunizzati. Allora, detta così, sembra quasi una di quelle notizie che, insomma, da dito sulla lingua prende giri pagina senza darci troppo peso. In realtà, io questa mattina ho voluto fare, leggendo questo articolo, ho voluto fare un grafico, perché forse così si capisce meglio. Allora, andiamo a vedere questo grafico che io ho preparato questa mattina, sperando di non aver fatto qualche errore di ortografia, perché è tutto di corsa. Allora, la situazione nelle Marche, fotografia ad oggi, fotografia ad oggi. Abbiamo in terapia intensiva 21 persone ricoverate, di cui 3 persone vaccinate, 18 non vaccinate. In semi-intensiva, 21 ricoverati, 4 vaccinati, 17 non vaccinati. In area medica 37 ricoverati, 7 vaccinati, 30 non vaccinati. Totale ricoverati 79, di cui 14 vaccinati, 65 non vaccinati. Ora, siccome in tanti, anche tra colleghi, si sono lamentati con la struttura regionale, perché ci mandano dei report, ma semplicemente così, senza la divisione tra vaccinati e non vaccinati, anche per capire come sta andando veramente. Allora, oggi finalmente, grazie al Corriere Adriatico, siamo riusciti a capire che su 79 persone, come vedete, 79 persone ricoverate in ospedale in questo momento, ci sono 14 vaccinati, 65 non vaccinati. Ora, non focalizziamoci e non focalizzatevi sul 65, un numero più alto di 14. Lasciate stare, anche se fosse stato solo un vaccinato, ci sarebbe stato comunque da discutere, ma in realtà non ce n'è uno, ne abbiamo 14. E se andiamo a ritornare, se torniamo sul cartello di prima e andiamo in terapia intensiva, su 21 persone ricoverate, 3 sono quelli che hanno ricevuto la doppia dose. In semi intensiva ce ne sono 4 che hanno ricevuto il vaccino. Insomma, in totale 14 persone vaccinate, a queste 14 persone, come gli si spiega il perché sono finiti comunque in ospedale? 14 persone che probabilmente, come tutti quelli vaccinati, si sentivano iperprotetti, immuni, così come vengono chiamati. Persone che probabilmente si sentivano, ecco, come dire, immuni dal contagio. Ora io non voglio entrare nel discorso del vaccino perché è un discorso che non mi interessa in questo momento. Io vorrei tornare sul discorso del Green Pass perché a questo punto con questi numeri, con questi numeri che sono solo riferiti alla Regione Marche, ma a questo punto se moltiplichiamo questa situazione in tutta Italia chiaramente capirete che, ma non ce lo dicono, perché anche nel report, andiamo a vedere un attimo il report nazionale che sono riuscito a scaricare stamattina. Eccolo qua, questo del 22 settembre, il report. Voi non leggete da nessuna parte tra i ricoverati in terapia intensiva, per esempio in questo momento ce ne sono 513, il dato è qui sotto, vedete qua, 513 in Italia, va bene? Ora di queste 513 persone ricoverate in terapia intensiva, quante sono quelle che hanno avuto già la doppia dose di vaccino? Questo dato non ce lo scorporano, non ce lo dicono, si fa fatica, una fatica enorme ad avere questo dato. Ecco perché sto enfatizzando questo articolo del Corriere Adriatico che è riuscito a pubblicarlo, eccetera. Quindi di questi 513 quanti ce ne sono? Non si sa. Allora, domanda, siccome il minimo sindacale che un vaccino possa fare è quello di non mandarti almeno all'ospedale, almeno ci hanno detto tutti così, vaccinatevi così almeno non finite in terapia intensiva. Non è vero, non è vero, perché ce ne sono al momento ce ne sono 3, in semi intensiva ce ne sono 4, in totale ce ne sono 14 ricoverate in ospedale. Allora si finisce in ospedale nonostante il vaccino, ma il minimo sindacale era quello di non farci ammalare fino a quel punto. Allora che cosa ci state dicendo? Semplicemente delle bugie. A parte le bugie, questo Green Pass, ed è lì che voglio arrivare, il Green Pass che dal 15 ottobre diventerà obbligatorio perché questo è, ha ancora un senso? Perché il motivo del Green Pass è quello di farci vaccinare. Ma se poi ci andiamo lo stesso in terapia intensiva, a che serve? Sono domande che io mi pongo e che anche voi ovviamente spero imponiate, ma che alle quali nessuno dà una risposta plausibile, decente. Ecco, guardate, Green Pass obbligatorio, la sospensione dal lavoro cancellata dal decreto. Come dire, tu vieni a lavorare perché se no se stai a casa ci crei un disagio, se tu non ci sei e non lavori, però lo stipendio non te lo do finché non ti vaccini. Cioè, diabolico. E insomma, se volete domande risposte, anche qui potrete leggerle sul giornale di questa mattina. Non so se avete voglia di ascoltare come funziona il Green Pass per i dipendenti privati. L'obbligo, lo ricordiamo, è esteso a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato, anche sulla base dei contratti esterni. Le verifiche spettano ai datori di lavoro, quindi incombenze su incombenze, che dovranno definire le modalità organizzative entro il 15 di ottobre. Insomma, se qualcuno verrà pizzicato all'interno dell'azienda senza questo certificato, chi non è in possesso scatterà l'assenza ingiustificata e di conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenze ingiustificate, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e sostituirlo per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, dunque per un massimo di 20 giorni. Chi è senza il pass sul posto di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro, mentre per i datori di lavoro la sanzione può andare da 400 a 1.000 euro. Ora, ribadiamo, l'Italia è l'unico paese, a parte la Francia, che ha reso obbligatorio il Green Pass, e non si capisce il perché, per far vaccinare le persone, obbligarle a vaccinarsi. Un vaccino che, come abbiamo visto, non copre, non ti evita la terapia intensiva, non ti evita di finire all'ospedale. Ecco perché non vogliono darci questi dati, li stiamo chiedendo, stiamo chiedendo i dati scorporati. Ci dite quanti, per favore, sono quelli che vanno in terapia intensiva con il doppio vaccino e chi invece non è vaccinato? Questo dato non si può sapere, nessuno lo può sapere. Oggi lo apprendiamo dal Corriere Adriatico, che ha fatto evidentemente un buon lavoro in questo senso. E allora, giriamo sempre intorno al solito problema. Ormai è deciso così, io mi auguro che questa cosa, anche perché, ripeto, i messaggi che arrivano, i messaggi che arrivano anche alla nostra redazione, sono tantissimi di gente che continua ad avere paura, problemi. Io, di perdere il posto di lavoro, quindi in questi giorni andrà a fare il vaccino, ha già prenotato, qualcuno dice io purtroppo lo devo fare se no perdo il posto di lavoro, eccetera. Che cosa si può fare? Non lo so e adesso bisognerà vedere se dal 15 di ottobre come andrà l'Italia, che scossone avrà, perché io ho paura che questa scelta di rendere obbligatorio il vaccino del Green Pass il 15 di ottobre, quindi con un mese di distanza dall'annuncio, anche in questo caso sia il tentativo sia semplicemente quello di far andare a vaccinare. Poi qualcosa può darsi che dopo il 15 cambierà. Quindi chi può aspettare, aspetti. Ma comunque faccia qualche tampone, magari fino alla fine di ottobre, la tiri alla lunga il più possibile, poi magari qualcosa cambia, non lo so. Allora, virologi in tv, il freno della politica, interviste solo se l'ASL è d'accordo, un ordine del giorno in Parlamento, la prima firma è di un deputato ex Movimento 5 Stelle e il governo lo ha subito accolto. Quindi interviste ai medici con il permesso, è fascismo. Insorgono alcuni notti virologi da Galli a Pregliasco a Bassetti, è certo. Gli togli lo specchio, il trucco, e questi vanno in paranoia e non sanno più come sbarcare il lunario e gli tocca fare i virologi, gli tocca tornare in laboratorio. E va bene. Galli non ci sta, c'è chi dice sciocchezze, ma così è fascismo, Bassetti invece vogliono tapparci la bocca. Ok, direi che per ora può bastare così, il commento alla stampa è finito. Allora, vi ricordo, oggi abbiamo alcuni appuntamenti importanti nel palinsesto, intanto alle sette e mezzo la messa da Loreto, in diretta, poi alle undici, in diretta dalla chiesa di San Pio da Pietralcina, solenne con celebrazione eucaristica, presieduta dal Sua Eccellenza, il nunzio apostolico in Italia nella Repubblica di San Marino, Emil Paul. Alle diciassette invece, sempre su Fano TV, Santa Messa presieduta da Papa Francesco con i partecipanti all'assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. E poi alle 20.30 il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, passate una buona giornata. Arrivederci. Grazie.